Il conto alla rovescia sta per terminare domani la gara tra San Benedettese e Campobasso in un Riviera delle Palme che registrerà il tutto esaurito con circa 8.000 presenze. I Rosso Blu Molisani sono partiti questa mattina per le Marche dopo il saluto con i tifosi. Prima della partenza per le Marche. Così come sabato scorso, così come sempre, i tifosi in Rosso Blu hanno dimostrato vicinanza a giocatori e staff. Insomma, carica in più in vista del big match. A quanto pare domani il cosiddetto tempio del tifo della cittadina marchigiana registrerà il tutto esaurito. Sono previste 8.000 presenze colorandosi interamente di rosso e di blu, colori che accomunano le due compagini. La sfida inevitabilmente evoca ricordi non troppo lontani, oppure sono passati dieci anni dalla partita a Riviera che ha visto trionfare il Campobasso con la rete del 3-2 di Capitan Minadeo al novantesimo. Match con il quale i molisani posero fine all'imbattibilità della San Benedettese che durava da due anni. Quella di domani appare, anzi è una sfida di fondamentale importanza per il Campobasso che ha l'imperativo di tornare a casa con il bottino pieno, per consolidare ulteriormente la vetta e allontanare quella che al momento è la diretta concorrente, ovvero l'Aquila. La squadra di Pergorizzi si trova a 62 punti, seguita a 4 di distanza dall'Aquila e a 8 dalla San Benedettese. La formazione di Lauro ha infatti nelle ultime giornate perso troppi punti per strada lasciando spazio alla formazione di Cappellacci che sembrerebbe voler dare battaglia al Campobasso. Si preannuncia così una gara dalle mille emozioni e mille sfaccettature che quasi certamente terrà con il fiato sospeso i presenti per almeno 90 minuti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.